Musica Ma chi è questo eroe dei giorni nostri? Grande Lucio! Ma chi è venire? il progetto è grande, tanti ah lo vai ah 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 come? che cosa è? che cosa è? che cosa è? che cosa è? sì 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 Vai vai! e sempre che apprena Voi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peccato una così bella bici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.